La patata e fermi qua, adesso li fa il manichetto, li fa anche il ferretto, non tirare e devi svitare, chira, 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 chito per far fritta nell'olio, fritta, se no fa il forno con pollo, questa si chiama pollo o patata, pollo e patata, se non piace il pollo piace i cani, cani e patata, buono il cano è il buono, qui metti carne ripiena, salsiccia, formaggio, se no fai patata col buco super dimagrire, guarda la pancia che c'hai, se vuoi dimagrire, si mani al buco, non mani alla patata, se puoi infilare la carotina, ti entra la patatina, ti ricordi? Comelo? Si, e metti la carota e entra la patata là, e fai carota e patata insieme con il pollo qua, guarda mia socia era cattiva, quando infilate la carota e entra la patata, guarda come diventate buona, guarda, carina, bella e buona, se puoi fare carota e patata insieme, piano la carota e una patata, fanno insieme così, guarda che bello, quando fa zucchina piano la patata, spinne sempre, zucchina piano, che fa piano, arriva sano fino a Milano, però devi andare dritto, perché la patata se fa storto si attrezza da solo, la zucchina non si attrezza più, si rompe tutto, quando arrivi alla traporta della patata fermi là, togli qua, togli là, non tiri la patata, devi svidare la patata, svidi, io mi piace la zucchina, quella brutta, quello mi piace, io mi piace la zucchina bruttissima, qui metti carne ripiena, se no metti vetro qua, vetro là, vede la stella, se volete fare gnocchi, fammo gnocchi, questa gnocchi, quella gnocchi, o fa fritta, o fa lessa, o buttiamo in essa, fai quella che sognuno, e una mano tua per fare il limoncello, fantasello piccolo, piccolo come tua, piccolo, 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 ce l'hai piccolo così o più piccolo? più piccolo? Ah vabbè, vabbè, è meglio piccolo di niente, quando metti entra la patata, divanna fino al fondo, diventare la patata, diventare fino al fondo là, porta il tavolino sopra un piattino, vedi che carino, apri il tappo e premi qui, se c'è là un bisciolino, le metto sopra la capoccia del bisciolino, se c'è là il cagnolino, fa il limone al cane, buono, il cane al limone è buonissimo, il tappo lo conservi nel frigo qua, dopo 5-6 anni, e il limone ancora buono, e il cagnolino è morto, c'abbiamo l'altro, ecco il limone per l'altro cane, perché il cane ha 5-6 anni, anche se vive o scaduto, e quella è numero 2, questa è numero 3, quando un filo entra la patata, zucchina, ravanelli, citrioli, chiwe, la carota, no, evitare per entrare 1, 2, 3, 4, 5, se ce l'hai 5, quando cresce un po', ce l'hai 6 in mano, devi girare ancora, e il dietro le metti dentro, questo no quello, quella no, quella si, metti dentro vai, così vengono le patate, zucchina, citrioli, chiwe, ravanelli, la mela, fino a domani non finisce mai, signor, avete signor, se vuoi uscire pure la sera, fa la collana, però quando finisce, se vuoi pulisce anche l'orecchio, spinne porti, giri, esce il cervello, se c'è, non c'è, pisciolino non c'è, cervello non c'è, ma che caglio c'è, sordi, ma magari, guarda, guarda, a prima no, a seconda fa dritto, trova il bonto, da sopra il bonto fa il tefari, è buono, è meglio per te, e quell'altro qui fa la carota, fina, fina, si chiama giuliana, qui le pilla tutto, anche l'anima del prosciutto, le carote, le patate, ci vuole la banana, se vuoi fare la capella pure, è facilissimo, avendoli? Si, se vuoi fare la zucchina, metti la carne, anche la mela là, se c'è un pesce a casa, se le fa le squame, se vuoi fare la giuliana, cammini sopra la carota, così vengono giuliana, signora, credimi, tre mesi fa, era biondo, bello, maniato le carote, è diventato nero, ecco qua, si chiama giuliana, signor, ti vuoi fare la zucchina, signora, se vuoi fare la zucchina per fare la pasta, fa la pizza, si chiama giuliana, guarda che buona, la pasta, se vuoi fare la zucchina, zucchina, carota, patate, cipolla, banana, questa parte là, se non c'è chiacchio da fare, metti dentro il shampoo, fa anche il pollo di sapone, fa tutto, quella roba italiana, non è roba cinese, qualche cinese qua, non è roba cinese, signor, non è roba cinese, guarda, metti in Italia, c'è le spiegazioni in egiziano, facile facile, questa 10 e 10, se prendi due a 15, ti regalo due a carota, una per maniato, e l'altra, capito, se vuoi cucinare da casa. Grande, bravo, bravo, grazie signor, signor, grazie, 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 grazie.